Resident Evil 6 Ok, ora sparpagliamoci e perlustriamo questo posto Sono... persone L'analisi rileva forme di vita Se non ci posso Chi va là? È qui Rilevo qualcosa dall'altra parte della porta Pierce, Finn, venite con me Tutti gli altri cercate ancora qui Fuggi Tre di noi stanno per allontanarsi Per addentrarsi Un'altra parte Un'altra parte Progett Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Sì. Sì. Muoversi. Non adesso. Dietro di me. Non adesso. Uno si schiude, signore. Comunicalo al QG. Grazie. Sì. Muoversi. Non, non, la protia no. Muoversi. Relato! Arma biologica ne ho realizzate. Per lustra e resto, ma resta in guardia. Arma biologica ne ho realizzate. Ovo je jebeno dobro. Arma biologica ne ho realizzate. Arma biologica ne ho realizzate. Arma biologica ne ho realizzate. Arma biologica ne ho realizzato. Arma biologica ne ho realizzato. Arma biologica ne ho realizzato. Lieta sia arrivata alla cavalleria. Chi sei? Io lavoro qui. Mi chiamo Ada Wong. Mi hanno preso in ostaggio. Virus C. Deve essere ciò che crea i Juavo. Sì, li ho sentiti dire qualcosa del genere. Che cos'altro hai sentito? Magari potreste abbassare le armi prima. Dacci almeno un motivo per farlo. Nio Umbrella. Nio Umbrella? È l'organizzazione che sostiene i guerriglieri. O almeno è così che loro si definiscono. Hanno portato loro il virus C. È tutto ciò che so. Grazie. Apprezziamo la tua collaborazione. Finn. Il compito di proteggerla è tuo. Sì, signore. Tieni la d'occhio, ok? Sì, lo farò. Abbiamo trovato uno del personale. Torniamo all'atrio. Andiamo. C'è una scorciatoia per tornare all'entrata. Sì, Pearson. Roger. Viene la sua volta. Ci sono a scuola. Allora, non c'è il blocking. Tutti al primo piano. L'atrio è troppo pericoloso. Sì, sì. Sì, Pearson. Tutti al primo piano! Sì, sì! Grazie a tutti. 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 La donna è scomparsa. Fini! Non so cosa sia successo. Era qui un attimo qua. Grazie a tutti. No, 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 no! No, 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 no Grazie! Grazie!